Donna qua, qua che è in dritta, togliti da qui Manu, qua e sei in dritta sul sedio. Eccolo! Cuglio che gira! Fai sentire se il litro di finanzieri dall'esercito ha bisogno di... C'è lato! Vuoi sentire? Stato in culare! Quindi hai perso? No, hai perso, no! Vedi il litro dentro e tocci? No! Non tocci sulla lingua! Vuoi star male! C'è anche dissetato! Ah beh, allora, ho capito! C'è anche qui a posto! C'è anche dissetato! Ah, posta per quello che ho bevuto l'acqua... ...che se lo sento... ...lo senti? C'è... Non lo fa evaporare! Te sei curvo! No, no, ma non lo fa evaporare! Come va? No, è stato un po' stronti! Cheatemi la torsione! No, grazie! Beh, adesso, beh, se ne va via per me! Anche il trash, magari... ...lo tesoriamo, però... ...però... C'è la mosca eh, c'è un momento così che lei è lì che la mangia. Oh 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 oh.